Chi dice che Sofran dà il massimo della sicurezza? Io dico che Sofran dà il massimo della sicurezza. Ecco, per esempio, anche questo golf che mi ha regalato mio marito a Natale, io ci tengo moltissimo. Non è soltanto delicata la lana, ma ha questi intersi in pelle. Per cui io con Sofran ho continuato a lavarlo ed è rimasto sempre morbido, soffice, i colori sono vivaci, splendenti diciamo. Sinceramente con Sofran mi sento sicura. Sofran liquido, nessuno ti dà più sicurezza.